Ieri pomeriggio a Terralba si sono svolti i funerali di Doddore Meloni. Avvolto nella bandiera dei quattro mori e in quella del leone di San Marco, il feretro è giunto nella cattedrale di San Pietro dopo una breve processione. Erano presenti alcune migliaia di persone, che hanno voluto così dare l'ultimo saluto all'indipendentista leader del movimento Meris Maluentu, morto mercoledì scorso nell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dopo oltre due mesi di sciopero della fame, attuato per contestare la sua detenzione in carcere in seguito ad alcune condanne, preati fiscali e falso. Don Gianfranco Zunchedu ha celebrato la messa su espressa delega della chiesa sarda perché Doddore Meloni aveva manifestato il desiderio di una celebrazione in lingua sarda. È stata accordata una deroga parziale Don Zunchedu ha svolto in sardo l'Omelia, tutta dedicata al ricordo della figura di Doddore Meloni come indipendentista e credente. Presenti tra gli altri l'europarlamentare della Lega Nord Mario Borghezio, il deputato e leader di Unidos Mauro Pili, il presidente e dimissionario del PSDATS Giovanni Columbo e il segretario del Partito dei Sardi Francisco Sedda. Tanti gli esponenti e militanti dell'indipendentismo giunti anche dalla penisola. Nessuno spettatore, nessuna medaglia, soltanto il via vai di offese e l'uso delle mani. Naturalmente si sta parlando della brutta litte avvenuta venerdì sera a Oristano, in via Serneste. La scintilla che ha fatto scoppiare il diverbio del generato poi non avrei la propria rissa è stata la richiesta da parte di un noto commerciante di Oristano, NM, di spostare una macchina che ostruiva il passaggio. Il presunto aggressore, D.P., almeno per ora non è stato denunciato dalla polizia della questura di Oristano che ha avviato le indagini per fare luce su quanto è successo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, NM, dopo il susseguirsi di parolacce e lunghe offese, è sceso dall'autovettura ed è nata così la controversia. Il presunto aggressore ha tentato di bloccarlo. NM ha provato a difendersi ma nulla da fare. Il povero commerciante, con il volto sanguinato, ha chiamato i soccorsi. Giunti sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della squadra volante. NM è stato trasferito in ospedale per le cure del caso ed è stato dimesso dopo le medicazioni. Ieri mattina un'auto è finita dentro le acque del mare di Santa Caterina di Pitinurri. Secondo una prima ricomposizione dei fatti, ora al vaglio dei inquirenti, il proprietario l'ha parcheggiata nei pressi della Torre Aragonese, a ridosso della scogliera, senza attivare il freno a mano e causando così la caduta in mare. Immediata è stata l'attivazione delle procedure di pronto intervento da parte della Capitaneria di Porto di Oristano, che ha inviato sul posto una squadra a terra, in stretto coordinamento, con la pattuglia dei carabinieri della stazione di Ghilarza, già presente sul posto. I uomini della Guardia Costiera, dopo aver verificato l'affondamento in mare del veicolo, hanno provveduto ad identificare il conducente proprietario del mezzo, a muovere nei suoi confronti una difida e a attuare tutte le misure necessarie a prevenire il rischio di inquinamento e a rimuovere eventuali sostanze inquinante già disperse. Sul posto è intervenuto anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Cagliari. Dopo un breve sopralluogo da parte del nucleo dei sommozzatori, il veicolo affondato è stato legato a dei palloni galleggianti e dopo averlo fatto riemergere è stato trainato sin verso lo scivolo di Alagio presente nelle immediate vicinanze, per essere poi portato a secco con l'aiuto di una gru. Un importante appuntamento riservato al mondo delle imprese si svolgerà martedì prossimo 11 luglio nella sala conferenze della Camera di Commercio in via Carducci 23 Oristano, per illustrare le possibilità riservate proprio alle aziende sarde di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione. L'iniziativa è prevista con inizio alle 16 e l'ingresso è libero. Ci sarà la possibilità di apprendere le modalità di accesso ai diversi bandi e soprattutto di porre quesiti specifici ai relatori. L'incontro è promosso dalla Camera di Commercio di Oristano e dal Centro di Programmazione Regionale, in collaborazione con le Camere di Commercio della Sardegna. A Monta ha oltre 700 milioni di euro la somma che la Regione ha deciso di destinare ai finanziamenti per le imprese entro il 2020. Il Centro Storico di Cabras avrà entro l'estate una nuova veste. Il primo cittadino ha comunicato che a breve partiranno i lavori per la riqualificazione della piazza Don Sturzo, di piazza Eleonora e di piazza Vittorio Emanuele e ha evidenziato come in alcune di queste piazze il parcheggio selvaggio sia ormai un'abitudine. Il piano prevede il posizionamento in alcune piazze di dissuasori ed elementi di arredo urbano che non permetteranno più il parcheggio, consentendo però il transito veicolare e lasciando un'area per il carico e scarico merci. Si tratta di una proposta che ha l'obiettivo di eliminare il parcheggio selvaggio, permettendo il passaggio agevole e sicuro ai pedoni ed evitando le continue ostruzioni del traffico veicolare, hanno affermato il sindaco Carrus e l'assessore Azzuri. Riteniamo inaccettabile, infatti, che, nonostante la polizia locale abbia combinato diversi verbali, si continui a parcheggiare in questa maniera. I parcheggi che si elimineranno saranno recuperati con la realizzazione di una nuova area di sosta nella Via Dante. Nei giorni scorsi, infatti, è stato approvato un progetto per la realizzazione di nuovi parcheggi nell'area di Accenti a Lente, attualmente utilizzata per il parcheggio delle autovetture comunali. Su proposta dell'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria, la Giunta ha approvato il programma di interventi a favore del comparto ipico per l'annualità 2017, con una dotazione finanziaria di un milione di euro. Per la realizzazione di tale programma, le risorse sono trasferite all'Agenzia Agris Sardegna. L'intervento si inquadra nelle azioni attivate dalla Regione dal 2015 per promuovere il comparto isolano. 500 mila euro sono destinati alle attività ipiche con l'inserimento, da un lato, di giornate aggiuntive agli appuntamenti programmati nei tre ipodromi Sardi di Sassari, Chilivani e Villacidro, e dall'altro con un incremento dei montepremi. Alla disciplina dell'Endurance andranno, invece, 80 mila euro, mentre 17 mila sono dedicate al concorso completo di equitazione organizzato a Tancarreggia. Altri 210 mila euro sono stanziati per il salto ostacoli e per le diverse iniziative programmate nel circuito regionale. Con l'obiettivo di favorire l'allevamento e il miglioramento della qualità dei cavalli allevati in Sardegna, 150 mila euro sono destinati al programma per le fattrici della razza anglo-arabo iscritte nei libri genealogici, che percepiranno un finanziamento massimo di 1.200 euro a soggetto. Per concludere, 30 mila euro andranno a sostegno del montepremi dei pali realizzati dai comitati che, nella propria programmazione, garantiscano l'impiego del cavallo anglo-arabo in luogo del puro sangue inglese e che adottino le misure di sicurezza e di controllo delle frodi antidoping, a favore della crescita e dello sviluppo corretto degli eventi. Infine, altri 5 mila euro sono stanziati per finanziare manifestazioni a cavallo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS